Hello guys, benvenuti in questo nuovo video. Oggi finalmente vi posto la decklist del mio Gladiator Beast, potremmo definirlo un Gladiator Beast Control, dato che parte tutto Gladiator Beast secondo me è un bit control, ma secondo me questa cosa è resa ancora più forte grazie a una mia touch personale che è sottovalutatissima e non molti appunto, c'è quello del formato, anzi addirittura non l'ho quasi mai vista, che poi andremo a vedere assieme. Prima di continuare vi ricordo della mia collaborazione con la Gilla Store, quindi sfruttate il mio codice a sconto che vedete qui in descrizione o in basso a destra per poter usufruire del 5% appunto sul sito ordinare i prodotti e anche di Cartrader, che qualora non aveste visto il video vi consiglio di farlo caso che appunto foste interessati all'acquisto di carte singole. Comunque sia, con questo mazzo diciamo, l'ho testato varie volte su Dueling Networks e mi ha dato tantissime soddisfazioni, tantissime, e anche in real diciamo con i miei amici giù, quindi abbiamo fatto una sorta di local di 4-5 persone e sono riuscito a fare zero sconfitte fortunatamente. Allora, comunque sia, io direi di continuare e mostrarvi direttamente la lista. Quindi abbiamo per i mostri abbiamo due lacuari, due Darius, che praticamente sono quelli che ho aspettato per fare il video, ci tenevo a verli secret proprio perché abbiamo un po' diciamo tutto il mazzo secret per quanto riguarda i mostri ed è uno dei miei mazzi preferiti in assoluto. Quindi gioco due lacuari, due Darius e due equeste, poi gioco Retiari, Murmillo, Bestiari ovviamente, anche Lopromus, quanto secondo me è una carta molto molto forte, soprattutto per le partenze, un 2100 in difesa, quindi ti parla da, meno male, tutti i bittoni in livello 4 all'interno del formato, tralasciando Neso, Calot, bla bla bla, queste cosine qui. E infine poi gioco già la trasformante. Perché gioco questa carta? Dato che il mazzo, io almeno non gioco Upstart Goblin e non ha chissà quanti peschini e soprattutto dove assettare un sacco di carte dato il corposo reparto trappola, pensavo che fosse una carta interessante in quanto è da una parte inaspettata e da un'altra parte ci aiuta appunto a ripullare la mano, caso che appunto abbiamo spiegato tutte le risorse sul terreno e ci aiuta a recuperare. E mi è successo, devo essere sincero, tante volte. Quindi io vi consiglierei di giocarla. Passando alle carte magie invece giochiamo ovviamente 3 Book of Moon, che sono veramente forti. Di solito lo sapete che questa carta preferisco giocarla a 2, ma in questo mazzo è consigliato giocarla a 3 e fidatevi che vi serve un sacco. Poi gioco 3 Proving Ground, perché allora di base non abbiamo chissà quanti mostri nel mazzo. Ci aiutano quindi a sterciare i mostri, alcuni la giocano a 2 e io la preferisco giocare direttamente a 3, anche perché caso che ci può aiutare a cercare il Bestiari per fare il Gizarus e appunto spaccare due carte all'oppo, che come sapete non è una cosa da poco. Poi gioco 2 Rimpicciolire, carta fortissima, veramente fortissima, è molto bastarda potremmo definirla. Poi gioco un Tifone e una Tempesta Potente. Allora molte liste questa non la giocano, proprio per il fatto perché il reparto Trappola è molto molto corposo, quindi potrebbe essere quasi una sorta di carta gialla, potremmo definirla. Tuttavia io la reparto ugualmente una carta molto forte, possiamo anche scombarla eventualmente con la nostra Starlight Road. È una partenza forte per togliere le risorse dell'avversario e non è detto appunto che abbiamo per forza 4 carte, 3 carte settate sul terreno. Volendo, il mazzo gioca 41 carte, almeno il mio, quindi potreste toglierla e metterla di side, vostra descrizione di base. E infine abbiamo la mia Tech Card, che sono 2 Kaiser Colosseo. Grazie, ribessa che fai, non giochi il Colosseo. A parte di scherzi. Allora, secondo me questa è una carta super sottovalutata e fortissima e ci permette di creare control. Alcuni ora potrebbero dire, sì ma potrebbe cozzare se hai più Gladiator Beast, se per esempio attivi Darius, se per esempio attivi l'effetto di Gizaros, quindi di Caliatri, di Gladiator e Bestia. C'è da dire che ovviamente il gioco è molto situazionale, scusa, il gioco è molto situazionale. Quindi sarete voi a gestire la partita e secondo me è una carta appunto molto forte contro i mazzi che spammano un sacco di mossi, sincrevocazioni. E considerando avere questa, più i carri da guerra di Gladiator e Bestia, fidatevi, create una situazione così spiacevole all'avversario che comincia a dannarsi, ma tanto. Fine, reparto trappola, gioco rigorosamente 3 carri. Perché, allora, alcuni potrebbero giocarlo a 2, ma la maggior parte del decklist lo giocano a 3, anche io ho deciso di giocarlo a 3. Perché, diciamo, è una carta che vuoi vedere di primo. Prima la tieni, prima hai control, prima riesci a bloccare l'avversario, è fortissimo contro anche Kaios e roba varia. È una counter trap soprattutto, perché è quella che la rende insane. È troppo troppo forte come carta. Poi, vabbè, molto corposo, gioco 2 bottomless, solo 2 prison, non 3, perché altra carta che gioco personalmente sono gli attacchi Icaro. Allora, gli attacchi Icaro funzionano appunto con il nostro Gizarus, ma anche con il nostro Bestiari, e, se leggete bene, può essere anche una Winged Beast. Quindi abbiamo differenti target appunto per questa carta, è veramente rotta come carta, potreste anche giocarla 1, giocare 3 prison, o non giocare direttamente un attacco Icaro. Ma secondo me va benissimo a 2, è veramente troppo 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 forte. Poi gioco 2 trapstan, carta che sta emergendo sempre più, sempre giocata all'interno del Gagliator Beast, perché, almeno per quanto riguarda questo formato, è veramente forte. Una Mirror Force, una Call of the Haunted, un Solennone, un Tributo Torrenziale, una Corruzione Oscura e una Starlight Road. Caso che non dovesse piacervi appunto questa carta qui, potreste optare per giocare 2 di questa. Però, personalmente, ho preferito così, perché questa, diciamo, è più situazionale, mentre questa è un po' più generica. E' vero che diamo un più in mano all'avversario, diamo una carta in più in mano, però è molto prestato, diciamo che dobbiamo proteggere i nostri Gagliator Beast il più possibile. E infine, giustamente, la carta Bastard, dal formato che è una Dust Shot. Vabbè, Extra Deck, diciamo, è quello che è in Gagliator Beast, giocate, che ne so, due Ottergizarus, uno o due Eraclinos, due Chimera Tech. E poi, vabbè, io qua c'ho solo uno Stardust, ma giocatelo a due, poi riempite, diciamo, con robe abbastanza, direi che ne sono brillo, la congoglio, quello che è, insomma, diciamo che obiettivamente farete questi, all'interno, almeno con questa lista. E poi, come side, gioco due Cyber Draghi, due Pachicefali, Corvo DD, due Wangu, che sono fortissime, specialmente contro mazzi come Quick Throw. Poi gioco Tredimensional Fissure, una Smashing Ground, perché temo un po' il Mirror Match, questa, ragazzi, è fortissima in Mirror Match contro, contro GB stesso. Poi, Dust Tornado è, come vi dicevo, un'altra Starlight Road. Consiglio mio, consiglio dello YouTuber, dello YugiTuber, e magari togliete la seconda Starlight, un Pachicefali, e magari, o una spaccatura dimensionale, ci mettete due Light Impresioning, il, come si chiama, lo Spectrum, Mirror Impresioning Light, scusate, che, appunto, fedele, Light Sworn, quantomeno, è un mazzo che sta spopolando sempre più, soprattutto nell'ultimo periodo. E questa era la mia decklist del Gladiator Beast. Allora, come avete visto, non è la versione che sfrutta il Test Tiger, quindi, qualora foste interessati anche a quella versione, spolliciate il video, più che altro per dimostrare un po' il vostro supporto, commentate, ditela, ditela posta, e vi posterò anche quella. Quindi, il prossimo video, probabilmente, sarà sul Lopeless Dragon, o Dark Dragons, un po' ho cambiato nome con, diciamo, la rintruzione di Edison, ma, per quello che io, appunto, dato che è un mazzo che ho sempre giocato, è stato forse il mio primo mazzo, effettivamente, da meta, Lopeless Dragon, si chiamava, appunto, così, quindi, probabilmente sarà il protagonista del prossimo video, oppure ci sarà, diciamo, un video con una, con una, anzi, special guest, sempre decklist di Yu-Gi-Oh! Io vi ringrazio ancora una volta per l'affetto che dimostrate, il canale sta andando molto bene, spero di migliorare pian piano col tempo, offrendomi i contenuti sempre migliori, e vi ringrazio ancora una volta per aver guardato il video fino a questo punto, e arrivederci, e al prossimo video, see you next time!